Buongiorno, sono Cristian Climona, docente del corso di laurea in educazione professionale. Vuoi conoscere meglio le persone? Aiutare chi è più fragile? Lavorare in un team? Conoscere un mondo nuovo così lontano ma così vicino? Allora il nostro corso ti sta aspettando. L'educatore professionale è un tecnico della riabilitazione che da anni lavora con e per la persona promuovendo e sviluppando le sue potenzialità sociali e individuali in un contesto di partecipazione e di recupero della vita quotidiana. L'educatore progetta e realizza interventi educativi e servizi utili alla promozione, alla prevenzione e alla riabilitazione. La nostra professionalità si basa sui principi del sapere, del saper fare e del sapere essere unendo conoscenze del campo umanistico a quelle del sanitario. Anziani, psichiatria, minori, disabilità, marginalità, area ospedaliera e ricerca educativa sono le aree di nostra competenza. Il nostro punto di forza è che fin dal primo anno i nostri studenti possono vivere la realtà educativa svolgendo più di 1250 ore di tirocinio, più di 100 ore di attività professionalizzante, più di 500 ore di tutoraggio individuale o di gruppo, una concreta possibilità lavorativa e un percorso coinvolgente ed innovativo. Che cosa aspetti? Vieni a conoscerci, scegli oggi il tuo domani. Ciao, sono Deborah Gregoriano, frequento il secondo anno del corso di laurea in educazione professionale. Ho scelto questo percorso perché in un futuro vorrò lavorare in un RSA o comunque in un centro diurno per anziani al fine di aiutarli a preservare al meglio le loro capacità residui cognitive. Ho scelto l'Insubria perché questo corso offre una gamma professionalizzante molto ampia. Ciao a tutti, io sono Sofia Rossetti e frequento il secondo anno del corso in educazione professionale. Ho scelto questo corso di laurea in quanto io, fin da quando ero molto piccola, mi sono sempre schierata dalla parte del più fragile e del più debole e trovo che non ci sia nessun altro corso di laurea che ti faccia entrare in relazione con le persone proprio come con questo. Ho scelto Insubria perché offre la disponibilità di sperimentare direttamente sul campo in tutti i vari ambiti in cui poi andrò a lavorare in un futuro. Inoltre un'altra delle motivazioni è proprio la disponibilità dei docenti che sono sempre pronti ad aiutarti. Scegli oggi il tuo domani.